La 5 km è una distanza un po' bistrattata ai day runner italiani, considerata troppo breve per essere una corsa vera e relegata a tapasciate e corse non competitive per i principianti o destinata solo agli atleti più competitivi che la fronte limpista. In realtà nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, è considerata un must, una distanza intorno alla quale allenare e creare la propria velocità anche in preparazione di distanze più lunghe come la 10 km o la mezza maratona. Negli ultimi tempi qualche gara interessante sui 5 km o distanze spure un po' più lunghe ma più corte delle 10 si comincia a intravedere anche da noi, soprattutto in questo periodo in cui si avvicina l'estate e arriva il momento delle gare serali. Ecco allora di seguito 5 diverse tipologie di allenamento di qualità da inserire nel vostro programma settimanale che vi permetteranno di migliorare velocità, resistenza, forza e magari tagliare il vostro primo traguardo. Ovviamente anche se state preparando una 5 km il volume complessivo delle singole sedute potrà superare la distanza di gara. Ricordatevi sempre di intervallare i vostri allenamenti più qualificanti con sedute di corsa lenta che oltre a permettervi di aumentare il chilometraggio settimanale vi aiuteranno anche a recuperare e a preparare al meglio in vista dei successivi allenamenti che avrete in programma. Un'ultima cosa, ogni seduta deve essere preceduta ad una fase di riscaldamento di almeno 15-20 minuti e seguita da una fase di defaticamento sempre della stessa durata oltre a qualche esercizio di mobilità articolare e allunghi. Iniziamo con il fartlek. Il fartlek è una tipologia di allenamento nato in Svezia negli anni 40 una serie di sessioni da correre tra sali e scendi, dei boschi e sensazione alternando ritmi veloci e ritmi lenti a piacimento. Un tipo di allenamento totalmente anarchico, potremmo definirlo, come un dosaggio delle forze soggettivo che può essere definito un precursore delle più classiche ripetute. Un buon inizio per chi vuole provare a variare i propri ritmi e non l'ha mai affatto magari prima. Non importa la distanza, non importa il ritmo. Correte dei tratti veloci alternati a tratti più lenti di recupero basandovi su riferimenti casuali come un lampione, un albero o una persona che incrociate. Inseritelo in un programma di allenamento partendo da un volume di almeno 3 km fino ad arrivare a un massimo di 8 km, sempre preceduto da riscaldamento e seguito da defaticamento. Secondo allenamento ripetute in salita. Per aumentare forza e velocità aerobica niente è meglio delle salite. Vanno benissimo quelle di un cavalcavia, facilmente disponibili anche per chi come me ad esempio abita in pianura o sfruttando, se ce l'avete o se avete una palestra a disposizione, il tapirulano. La pendenza dovrebbe essere intorno al 10% e la distanza da percorrere tra i 50 e i 100 metri. Correte in salita al massimo delle vostre capacità recuperando anche da fermi per un minuto tra una prova e l'altra o riscendendo ad inizio salita. Iniziate con un totale di 8 ripetute arrivando ad un massimo di 12 o 14 totale. Terzo allenamento ripetute da 100 metri in pista. Visto che i 5000 metri piani sono proprio una distanza legata alla pista, è giusto provare anche il brivido del tartan. Nulla vieta di correre comunque anche in strada, su sterrato o come prima su tapirulano. Questa tipologia di allenamento prevede di correre 100 metri al massimo delle proprie capacità e di recuperare la stessa distanza a ritmo di corsa lenta. Se siete in pista il tutto avverrà in modo molto facile essendo le distanze già assegnate. Inseritele in un programma settimanale partendo da un minimo di 10 ripetizioni fino a un massimo di 20. Anche in questo caso lavorerete per sviluppare la velocità aerobica. Quarta seduta ripetute da 400 o 500 metri corche oppure da fermo. Le ripetute brevi da 400 metri che sono più comode se correte in pista o 500 metri per chi è abituato a correre su strada con multipli dai 1000. Sono un ottimo elemento per continuare a sviluppare la velocità. Abbinate a un recupero breve da fermo permettono di adattarsi più velocemente alla velocità sfruttando la capacità del sistema nervoso di adattarsi a un ritmo più veloce e la fatica generata dall'acido lattico accumulato nei muscoli. Inseritele in un programma settimanale partendo da un minimo di 8 ripetizioni fino a un massimo di 14 per gli atleti più evoluti. Quinto allenamento che vi suggerisco sono le ripetute da 1000 metri in progressione. Una cosa da non dimenticare quando ci si allena è quella di divertirsi. Inserire quindi piccole variazioni nelle sedute che abitualmente si fanno può essere un aiuto non solo fisico per l'adattamento ma anche dal punto di vista mentale per rimanere più motivati e non annoiarsi ripetendo sempre le stesse cose. Correte le classiche ripetute da 1000 metri a tutta ma mai oltre il 90% delle vostre capacità imparando a variare, riconoscere e gestire il ritmo durante la fase di spinta. Un allenamento decisamente impegnativo ma in grado di regalare molti benefici. Inseritele in un programma settimanale partendo da un minimo di 4 ripetizioni fino a un massimo di 8 e impostate la sessione veloce partendo i primi 500 metri alla velocità di riferimento poi aumentate la seconda parte a un ritmo di 5 o 10 secondi più veloce e recuperate da 1 minuto e 30 a 2 minuti e 30 di corsa lenta. Come abbiamo già visto con il programma per la 10 km per allenarsi la corsa non è sempre e sufficiente solo correre. Sfruttare altre tipologie di allenamento come cross training è un'abitudine da sfruttare per allenare qualsiasi distanza. Nello specifico per una 5 km esplosività e forza possono essere un fattore da privilegiare e programmare. Un esercizio in questo senso molto interessante è quello che sempre più spesso viene consigliato nelle palestre il salto della corda, attività che riporta quando si giocava spese a ratti dei bambini. Oltre ad essere un buon allenamento cardio e di coordinazione, provateci, saltare la corda permette di allenare anche i muscoli di piedi quindi è utile farlo scalzi o con scarpe molto morbide allenare i polpacci è anche la propria eccezione. Inseritele in un programma settimanale partendo da un minimo di 10 serie da un minuto di esercizio con un minuto di pausa aumentando progressivamente la volontà. Se anche questo video vi è piaciuto lasciate un like e scrivete nei commenti la vostra esperienza e non dimenticatevi di attivare la campanella qui sotto per rimanere aggiornati su tutti i nostri prossimi contenuti. Buone corse! Grazie! Grazie! Grazie!